E come vi avevamo promesso, eccoci tornati in questo nuovo video su Hello Neighbor. Vi ricordate che siamo arrivati al lato 2 che c'è la proposta, beh continuiamo e vediamo che succede, ecco siamo nel lato 2, ricordatevi. Solo che si vede, papà nel momento che si mangia i yonkers. Fai mettere un attimo avanti che se no non vedo. Ecco qua, atto 2, atto d'acqua scrittato 2, è bello in italiano sasterito. Guarda, ci abbiamo un piede ferito, eppure il nostro letto guarda, il vicino ci ha messo in prigione e non ci ha dato da mangiare, soltanto torce, birilli, vedo, piatti insomma del genere. Ecco una porta, cosa si muore? Vi ricordate adesso esce il bimbo, eccolo qua il bimbo, bimbo. Vediamo, che c'ha aperto la porta? Un più le tasse, un po' più, eh? Ora, qua dovremmo aprire questa vento, con l'utilizzazione, dobbiamo passarci altra vento. Ok, allora, questo se posso, se lo portiamo presto, guarda quasi fermo. Oh, magari guarda. Dove siamo? E' un nuovo posto. Guarda, io sto, cosa devo fare? Ma quello ci vede vicino? Si, ci può venire casa tua. Comunque, se ci sia qua? Ma dov'è lui? Che ci ha visto? Allora! Qua no! Ma già fissi, dove sta? Sono le ultime. E' che che stia nella finestra. Ma che cosa? Non è così. Non è così. Ma che cosa? C'è gente che può andare sul trampolino. E' là! Ma questo malletto! Biscotto! Avviso? Ma Raffa! Questo malletto! Ma ha fatto tremare quello schifo! Non pari da poi! Ci ha preso e ma fatto più! Ma che ha premuto le due? Non c'è qualcuno fregato eh! Ha aperto la porta salmino fuori. Se potessi vedere un radar per sapere dov'è. Non si vede un radar vicino al muro? No! Eh! Scusa! Ma che ti parli? Ma sta forzando? Sì! 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 No! Sì! 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 Allora è credibile! Si sta chiuscendo? Che sto versando e finita? No! Lo viste? Ho visto la terra! No! ho detto una finestra ma sta là sotto non andrà a finire andrà a finire qua sotto come la miseria e come la villo? se possiamo fare questo ecco qua allora sta qui vedi? cerca di non buttare la giuola da fermo la devi lanciare ma no ma porca è no dove è il muo? mi sa che ti deve andare un po' sottino adesso come si posiziona le cose ecco qua non c'è la pena non c'è questo frattino che si spegne diversi non c'è che sta salendo le scale può salire le scale? si può salire questo maledetto è maledetto però ci ha visto ma non si rama che dannato ci ha catturato dove si fa le scale? che non si vedrà ce la fai? mentre domani pomeriggio oh non sai il menino come è fin passato non voglio guardare dietro non mi guardo dietro non mi guardo dietro facciamo il giro la sua casa oh ma che fa si spara la roba d'osso si spara la colla questo maledetto non lo conosce è un tipetto cattivo tipone sali qua sulle scale ma tu non sali va sulle scale eh no perché non ti dobbia eh ancora sta là ora lo bisogna sulle scale ora e nasconditi più in più aspetta che sta là ma lì le posta lì alle scale no no non ci vede vedi che non ci vede aspetta che se ne va visto? si è calmato o non se ne va no si ha visto ma non sta salendo ok bravo non cerca di non far andare fino alla casetta no questo non vuole il capparello non ci posso credere che hai fatto un fatto del genere e lui è qui sotto forse l'ho visto ho visto la torcia non ci vede no si l'ho visto sta salendo è là sta salendo lo scapolo non ci vede ok ha aperto la porta sperando che sia dormita però eh ma è caduto con la casa è caduta no dove sta la casa allora ci abbiamo con l'inventario ma che perché? non l'avevi accoggiata bene? sì la casa sì non l'avevi accoggiata bene perché abbiamo fatto un casino della madonna abbiamo fatto un casino aperto la porta aperto la porta aperto la porta aperto la porta immaginate anche il fuoco che è bene maledetto metto la casa cominci a mettere la cassetta in questa scatola e poi capigliare quell'altra no? così non sale scelta sì bravo allora questa metto qua sulla porta dopo me no ma tu come le sai mettere? eh le patate no scusa ma ogni volta piove il gioco è tutta la casa però ma questo sta vedendo non ti faccio che stanno andando all'altro lato no sto male di tutto vedi qua vedi qua vedi qua no 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 dobbia cercare di semilarlo ma non ti faccio asimilarlo no vedi che mi sente ancora la musica vuoi vedere che ora è qua? non non ci credo ci ha visto ora è di qua vuoi vedere? ma non possiamo uscire da questa cataglietta infernale? sì possiamo ci sono tre tecniche noi stiamo facendo il trampolino e non ce ne stanno altre più facili questo trampolino non lo sai fare? no ma ma questi si si usano altre ma durano tutte quante troppo non ci sarebbe non ci sarebbe sale su no lo so lo sento non lo senti tu stai di qua la donna dietro stai di là lo so ci sei passato ci sei andato a porto sì lo so l'ho visto noi dobbiamo andare in casa una persona prende una gara sì possiamo però no perché non ci serve se capite adesso per una cosa si stai sulle scala non ci vedi quanto vuoi? sì metterlo dentro o io? non mi dico che cade una gara prima ero due soltanto ma ok ma quante casse c'hai? due tre tre casse ecco faccio due e sì se me ne ho scelta questa carina mi è fame allora tu già ne hai messo se saremmo tutto sotto metto la destra casse sì no no dobbiamo mettere pure quell'altro ma è impossibile soltanto due da fare no ma no voi potevate inventarne un'altra cosa di so qua è troppo impossibile ti danni? sei in casa? come? vuoi te li piolli di qua? si stancato la mano si stancato la mano per accorrere vicino è un ucciso fra bello mettiti qua non ti muovere non ti fa vedere è uno un po' più avanti un po' più in alto un po' più in alto ecco la caldo ora devo saltare buttare il trampolino e saltare ma credo che non ce la facciamo vedi no e si è buggato il gioco oh dove siamo? che cosa è accaduto? secondo me invece è andato un'uscita come ha fatto prima si ma io non so non siamo risolti livello 2 fratello non credo perché non siamo andati sul trampolino ma che c'entra? ma fa così che ti fa nel nostro modo dire che è a tutto il livello siamo morti capito? un po' è morti sono sulla macchina vai c'è un cammino questa macchina ok stiamo salendo ecco ora vediamo questa macchina che fa ma non c'è un bambino maledetto eh sì stiamo camminando ah è un po' cogiochi 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 si cogiochi dell'orore cogiochi dell'orore dell'ororissimo guarda ristrito però questo è che tu c'è una casa qui vicino c'è pure l'armadio questi mi sa che sono ricordi ci sono piatti che fanno che tu sono ricordi secondo me quando ti riesci questo tal corso a vivere 3 all'as battuto 3 ma stai r terrorismi Stai andando al vicino? Che dove stai andando? Ecco, dobbiamo saltare le montagne russo. Le montagne russo. Oh, questo è l'olio. Oh, questo è l'olio. Bella salire, che poi è bello che mi riposo la mano. Ma il brutto è che devi aspettare per forza, purtroppo. Ok, poi è più facile il lato 1, è il primo, questo è il secondo. Ed è già difficile che non riusciamo a saltare su quel maledetto trampolino. E' scendolo. La bambina! C'è la bambina! Sta succedendo! Sta succedendo! Sta succedendo! Ed eccoci al lato 3, giusto? No, sempre al lato 2. Te l'ho detto, era un caricamento, sai che sono i maldetti caricamenti? Buona lezione! Che cos'è questo? Un binocolo. Non ci serve? Lo so vedere attraverso. Sei il vicinone qua? Senti la musica! Ferma dietro e ben dietro! L'hai fatto uscire! Eh vabbè non sapevo che era in casa! Oh! Ma chi è che si spara questa roba? E' il vicino! Questo maledetto! Vicino per farcela allentare i piedi! No! Ferma! 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 l'ho aperto la porta piano piano abbiamo due scarpe, mettiamo la cassa su qua piano piano più alta, più un'alto di te dove sta? prendi da più in alto fatti di vicino scusa, non puoi sapere su per poi la scelta si lo so, si può fare, però è impossibile non c'è, non c'è ecco qua ti ho detto come c'è ecco qua ora credo che ci possiamo fuggere di qui quindi fuori da tutto ciò che è vicino fuori da tutto quello che mi aspetta, vedi quella è casa nostra ok ora non puoi sbagliare aspetta forza di saltare porca Eva per non ci buttare scato di giù questa carogna ora dobbiamo aspettare altre 30 ore no speriamo che non butta le scatole in giù la salta salta no ahhh cappero chi l'aveva vista? cappero quel pezzente ma poi troviamo quelle scatole che sono le più a metterle di nuovo eh credo sì caro Isega lascia il trasto di maldito ma piace altre due scatole una trasto ci sta ancora mettici le piano non farle cadere giù perchè? 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 mi dia che sale mi dia che sale mi dia che sale ok 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 tu ce l'abbiamo fatta sicuramente non ce l'hai fatta non ci credo ma addolta la miseria non ce l'abbiamo fatta mamma si deve fare di più 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 ma che ne fa 80 parti eh secondo me basta l'ultimo vediamo qua c'è un'altra stagna piala quindi c'è un altro 4 si non ci ha rovesciato niente ora oddio si guarda che dobbiamo fare abbiamo messo un'altra scapola secondo te che la faremo? si proviamoci non ci vedo siamo caduti giù è comunque tutto quanto pronto si mi fa salire ora qua si cammina e si salta manca ancora un altro ancora che dobbiamo fare qua? non è possibile però non dobbiamo fare il circo no mettere cosa dobbiamo mettere allora no non ci abbiamo pulito no non ci abbiamo pulito manca no qui no non non ha fatto ma quale tipo di occhiali che hanno messo ah perché non mi fa capire il coso questo non è giusto questo non è giusto è giusto no non è giusto vabbè ma è pure notte esci un attimo allora con la notte non si può fare con la notte non si può fare continua con la notte non si può proprio fare ora vediamo è giorno o se non esco di nuovo al giorno si ok l'aspetto c'abbiamo qua c'è una mela beh ma non è giusto ma lì ci doveva vedere prima che dovevo fare tutto quanto ora me lo trovo di qua l'aspetto c'è un'altra l'aspetto c'è un'altra l'aspetto è un'altra ma non è giusto l'aspetto c'è un'altra che l'aspetto c'è un'altra però non è giusto eia però sali, sali, bam sali, sali, sali sali, sali sali, 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 sali sali, sali, sali e guarda questo se si spiga sali, sali, sali sali, sali, sali sali, sali, sali sali, 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 sali 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 Grazie. 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 E qua. Là. Grazie. 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 Le sale di nuovo le scale. Grazie. 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 Grazie.